Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per parlarvi della seconda puntata della seconda stagione di Fuga dalla Morte intitolata La Bussola. Ci saranno spoiler, quindi se non l'avete ancora vista, correte a farlo. Nel complesso credo che mi abbia colpito di meno rispetto all'episodio precedente, però più ci penso, più ci ragiono a mente fredda e più la rivaluto, non solo perché è piena di indizi riguardo la risoluzione del mistero, indizi di cui tra l'altro posso parlarvi fino a un certo punto, visto che conosco già il finale, ma soprattutto grazie al suo interessante significato metanarrativo. Ciò non toglie che vi parlerò comunque dei suoi difetti, perché sono un cagacazzo. E allora, leviamoci subito dalle balle, il difetto più problematico, la gestione del tempo, la conseguenzialità cronologica, sentite che termini altolocati da espertone, i personaggi dicono che sono trascorse settimane rispetto agli eventi del primo episodio, ma non sembra proprio, non sembra per niente, un po' perché la scena tra il soldato Baglio e Victor riprende pressapoco da dove l'avevamo lasciata nella puntata scorsa, ma soprattutto perché tra i personaggi non c'è quella confidenza che si crea inevitabilmente trascorrendo giorni interi in una situazione difficoltosa. Nessuno ha raccontato il suo passato agli altri, ad esempio c'è Emma che casca dal pero quando scopre che Lorenzo viveva in una fattoria. E lo so, lei ha fatto un po' la freddina, quella distaccata, per non passare come una facile dinanzi alle avance del bellimbusto dai capelli lunghi. Però se quel bellimbusto ti protegge da settimane e ti fa mangiare, ecco magari una conversazione ogni tanto, anche perché poi dopo averli parlato scatta il limone. Ecco, forse è stata un po' troppo repentina la crescita nel rapporto tra i due. Insomma, se i personaggi dicono che sono trascorse settimane, in realtà sembra passato un giorno. Poi ci sono altri difettini minori abbastanza trascurabili, ogni tanto si sente il rumore della macchina da presa, ogni tanto i dialoghi diventano artificiosi. Ma ci passo sopra perché altri scambi di battute sono invece molto intriganti e pieni di dettagli comprensibili soltanto dopo una seconda visione. E poi i punti forti della prima puntata sono stati riconfermati, uno è stato addirittura rafforzato e mi riferisco alla recitazione. E i miei complimenti vanno ad Alberto Pagnotta. Il suo personaggio è molto pacato, riflessivo, raramente prorompe in scatti d'ira, momenti concitati, quelle situazioni che fanno subito pensare che bravo attore. Ma il suo lavoro è tutto sulle sfumature, sulle intonazioni, su quelle piccole cose che magari non si notano, ma che se fossero sbagliate salterebbero subito all'occhio. E quindi i miei applausi vanno non tanto per la scena finale, comunque potentissima, ma al dialogo tra lui e l'una dove Alberto fa trasparire tutta la sua umanità. E poi vabbè, c'è Andrea Baglio, tra l'altro in un doppio ruolo, uno di questi abbastanza inconsueto rispetto al solito. C'è un suo monologo e cosa dovrei dire? È sempre una garanzia, è sempre una sicurezza. Per il momento la sua interpretazione della morte è molto contenuta, composta per esigenza di trama e sceneggiatura, ma sono sicuro che quando si scatenerà, perché si scatenerà, l'abbiamo già intravisto nei trailer, allora non ce ne sarà per nessuno. Tra l'altro, colpo di scena, abbiamo scoperto che fuga dalla morte è il prequel della mia webserie, Skypocalypse. In Skypocalypse il generale Fidanken, interpretato appunto da Andrea Baglio, indossava un guanto, non abbiamo mai spiegato il perché. In questo episodio Baglio è nei panni di un soldato appena promosso maggiore che trova un guanto nella foresta e lo indossa per bloccare le sue capacità curative. Poi subisce un trauma perché viene ucciso, viene apparentemente ucciso. Un trauma che porterà questo soldato buono a non fidarsi più di nessuno e a diventare il crudele generale Fidanken. Tutto torna. E dopo questa rivelazione scioccante chiuderei la mia analisi, ritornando magari un attimo serio, e parlando della scena chiave dell'episodio. La scena chiave perché all'inizio l'ho disprezzata e poi l'ho rivalutata. Ho capito il suo significato simbolico e metanarrativo e sto parlando del dialogo tra Michael e Matt. Prendete tutti i progressi fatti nella recitazione, nella scrittura e buttateli via. È una gag perfetta per uno sketch su YouTube ma completamente stonata nell'ottica di una serie. Spezza il ritmo, è inutile, ridicolizza una situazione drammatica. Insomma, sembra estrapolata dalla prima stagione. E ne è il suo canto del cigno, perché alla fine Matt muore. Muore in una scena che ha toccato anche me, che avrei preso il suo personaggio a randellate. La sua morte ha un senso preciso all'interno della trama, che non intendo svelare, ma ne ha anche uno esterno, metanarrativo appunto. Michael omaggia la prima stagione e poi se ne sbarazza, perché è maturato come persona, come artista, perché quel tipo di comicità è una sicurezza, un gommone di salvataggio e va ricordata, certo, ma adesso bisogna andare avanti, rischiare, sperimentare e per farlo non c'è spazio per la paura. Ma io ho finito di blatterare e adesso tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa seconda puntata della seconda stagione di Fuga dalla Morte. Se questa mia analisi vi è piaciuta, mettete un bel mi piace e condividetela sui social. Se vi va potete anche seguirmi sui social. Trovate in descrizione i link alle mie pagine Facebook, Twitter, Instagram. Trovate anche i link per iscrivervi al canale Telegram e al gruppo di Facebook Le Amiche Intime di Matioschi. Entrambe queste opzioni vi permetteranno di non perdervi neppure un video del sottoscritto. Poi, se volete comprare una bella magliettazza nerd, trovate sempre in descrizione il link al sito di Pampling. Inserendo in fase d'acquisto il mio codice personalizzato Intima8, potrete accaparrarvi qualsiasi articolo del sito con il 15% di sconto, che non fa mai male. Per chi si stesse chiedendo che fine ha fatto il Matioschi Show, ritornerà. Penso vi sarete accorti meglio di me che questo è un periodo molto intenso tra Fuga dalla Morte, Westworld, Deadpool 2, solo. Non avrò tempo nemmeno per respirare. Appena potrò farò ritornare lo show. Per il momento accontentatevi di facce di nerd che comunque sta andando sempre meglio ed è davvero molto divertente. Detto questo non mi rimane da fare altro che congedarmi, che salutarvi, darvi appuntamento a tutti i prossimi video del canale e andarmene. Da qui con un fuga dalla morte resco. Sbadouche!